Ciao a tutti cacciotti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Stardew Valley siamo tornati nella Lemon Farm siamo nel terzo giorno di gioco del primo anno e oggi purtroppo piove piove va bene a noi non interessa però perchè dobbiamo andare a fare altre cose ad esempio alla fine dello scorso episodio c'era un messaggino che ci chiedeva di andare da un certo pescatore che tornava da un viaggio e ovviamente non spaccherò cioè non annaffierò il campo perchè scusa cioè sta piovendo addirotto direi che abbastanza acqua per la giornata però magari libero un po' qui il passaggio per il futuro tipo leviamo questo alberello e facciamo un po' di merdate ok vediamo se c'è qualche letterina no? non abbiamo nessun messaggio perfetto oh ecco abbiamo una missione andiamo alla spiaggia prima delle 5 in pomeriggio noi ci siamo svegliati che sono le 7.30 direi che possiamo andare anche ora sono molto contento di come è andato il primo episodio ragazzi sono davvero molto contento questo gioco mi piace un casino e sono contento che piaccia un botto anche a voi il primo episodio ha fatto 20.000 like che per un gioco che non è Minecraft sul mio canale è tanto attenti ho già conosciuto shane allora non so come andare in basso però ora vediamo ora vediamo la spiaggia se non sbaglio era di qua ok sono arrivati qui e c'è questo marinaio con la barbona Willy il coyote non sembra un po' mh vabbè lasciamo stare come va figliolo ho sentito che c'è un nuovo arrivato in città e sono contento di conoscerti va 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 è stato un mese in mare ha preso tanta roba bella e ha comprato una nuova canna da pesca e vuole regalarmi la sua vecchia canna da pesca ok carino vuole che l'arte del pescare rimanga viva beh hai ragione hai ragione io pescare sono andato tipo due volte da piccolino con mio fratello mio padre e un amico di mio padre e tipo mi ricordo che a una certa mio fratello ha lanciato non mi ricordo se era mio fratello o io però abbiamo lanciato una canna da pesca e era rimasta bloccata nell'albero minchia troppo ridere ok praticamente ci ha detto guarda io ti ho regalato la mia canna da pesca il mio negozio ora sarà sempre aperto cioè negli orari ovviamente di apertura quindi se vuoi delle risorse per pescare o se vuoi semplicemente vendermi quello che hai pescato fai un fischio ad esempio lui sta pescando e potrei pescare anch'io prendiamo la canna da pesca che è il 9 ah tra l'altro ho scoperto che se clicchi questo bottoncino ti riordina tutto non so bene come in realtà ma te lo riordina quindi usiamo questo bottone così ci organizziamo già a disposizione di tutte le cose ora in teoria col sinistro ok mi carica la canna pesca e la lancia e non so di più come funziona però penso che tra virgolette funzionerà come minecraft nel senso ecco sbagliato rilanciamolo come vedete comunque ci sfrutta l'energia quando facciamo queste cose e in teoria quando vedo un movimento devo cliccare infatti ho fatto una hit allora devo tenere la barra dietro al pesce cioè il pesce si muove va su e giù e io devo tenere la barra verde dietro il pesciolino cliccando il tasto sinistro del mouse minchia è difficile una sardina porca troia ho pescato una sardina ma chi se la compra una sardina oh per curiosità vediamo a quanto se la compra una sardina buongiorno amico una sardina 40 porca troia non male non male per davvero anche se sta diluviando tra l'altro eh beh proviamo a pescarne un altro vediamo se abbiamo più fortuna e poi andiamo in centro a fare acquisti con dei semini perchè voglio prendere qualcosa voglio prendere qualcosa di nuovo qualche semino nuovo e la mettere nella mia fattoria nel mio campo insomma hit ok questo è easy guarda rimane qui mi sa che se è così facile sali sali minchia è difficile no raga è difficilissimo mio deo non rimane lì cioè spero che si possa fare un upgrade tipo che tipo se usi un un verme o cose del genere la barra è più grande perchè altrimenti è davvero difficile difficile oddio qua la barra è piccolissima che è successo vai 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 mamma mia devo fare il peggio click rimani lì puttanella ok l'ho beccato cos'è uuuu 8 pollici di grandezza questo deve costare un botto dai qua willy quanto costa? costa meno della sardina? ma che sei serio? è gigante allora vediamo cosa c'è qui ah ci sono i vermi posso comprare i vermi? no non posso va bene abbiamo capito torniamo in città una conchiglia aspetta le conchiglie devo prenderle costano un botto magari me la compra direttamente willy conchiglia qua qualcuno ci ha vissuto una volta eh cazzo questa è una cosa vera cioè tutte le conchiglie sono state prima o poi no la casa di qualche mollusco magari cinquanta cioè costa più la conchiglia che non il pesce what the fuck almeno il pesce lo puoi mangiare zio va bene torniamo in città buongiorno cos'è questo posto? oddio ma questa è una casa cazzo raga mi sono intrufolato in una casa vediamo se c'è qualcosa del frigo nel frigo nel frigo porca torna questa è la casa del sindaco cazzo esci prima che arrivi qualcuno anzi aspetta lì c'è un libro che libro è? ah no ok ci sono i dati della città non ci capisce un cazzo allora io volevo andare da sandy mi pare come si chiamava? anche se a dire il vero io devo ancora conoscere tutta la gente quindi sarebbe meglio conoscere ad esempio il barista fammi entrare dentro il bancone buongiorno lui è gas è lo chef e proprietario del star drop saloon è interessante qua c'è un jukebox possiamo far partire qualcosa? load game team cloud country coin grand sport team settling in spring ma posso anche mettere tipo le mie canzoni? mettiamo tipo l'overture ah ma si blocca il gioco quando faccio mettere le canzoni ebbè è un po' una cheagata ah no 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 lo mette davvero? carino c'è qualcuno qui da conoscere? non lo so magari questo boh è anche un albergo mi sa un saloon? si per forza ah carina sta canzoncina nooo ci sono anche ci sono anche i giochi posso giocare i soldi? non ci credo posso anche preparare la gioja cola per 75 pezzi d'oro porca troia no 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 direi andiamocene da qui qua si spendono solo soldi non siamo ancora ricchi allora andiamo nel negozio della città cioè da pierre perché? come è chiuso il mercoledì? puttanella che razza di negozio sei? che chiude il mercoledì? vabbè facciamo un giro della città perché io vi ricordo che abbiamo ancora incontrare un bel po' di gente cos'è questo? è il municipio? pelican town ah magari è la stazione dei treni? no non c'erano i treni qua ci sono delle panchine però c'è uno interessante oddio qua sopra dove si va? non ci sono mai stato qui qua ci sono robe da abbattere c'è un'altra casa questa casa c'è il garage c'è un telescopio what the fuck chi c'è qua dentro? buongiorno c'è la casa di maru hai capito maru solo che qui quando piove nessuno sta fuori qua cosa c'è? railroad oh ciao sei maru? chi sei? no lui è il linus ma cos'è il barbone del villaggio? abita in una capanna? noo che figata e lui è in campeggio continuo what the fuck bro bello è che mi mancano ancora un botto di persone da conoscere le sono più o meno a metà lì ci sono 28 il centro della città le ho sporato tutto direi ora devo capire che mi manca qua dove sono? sono trovato a casa mia? cazzo questa è casa mia solo che qua è tutto bloccato devo abbattere un po' di legnetti con la falce anche oddio ma cos'è quella? una caverna? aspetta c'è una caverna aspetta battiamo quest'albero che da un po' fastidio qua in mezzo e poi visto che sono già le 4 e mezza del pomeriggio anzi quasi le 5 del pomeriggio prendi qua tutta roba grande vediamo che è sto posto tutto buio aspetta posso craftare una torcia? se non sbaglio si crafting torce vai ok ho una torcia e la voglio piazzare qui beh non è che faccia chissà quanta luce oddio che è sta cosa? sembra una maschera la vedi? qua c'è l'occhio qua c'è la bocca stranissimo ok ma non c'è assolutamente niente eh magari ci potrò costruire qualcosa in futuro va bene cerchiamo di tornare a casa facciamo tipo bim bum bum perfetto io direi di passare la notte dormendo perché beh semplicemente non ho molto altro da fare perché se fosse una cosa da fare sarebbe crearmi una cesta sapete che quasi quasi qua in casa una bella cesta io me la metterei non posso farlo ho bisogno di più legno ma sapete che vi dico andiamo a prendere più legno a questo punto tanto qui è pieno di alberi che sinceramente alcuni mi danno anche fastidio quindi un po' di legno lo prendo molto volentieri sono da 26 pezzi devi arrivare a 50 vediamo questo albero quanti me ne da 38 posso battere anche tipo questa base magari me ne da altro o magari mi da le fibre no no mi da anche pezzetti non ho bisogno di un altro po' il problema è che da quello ho capito mi avete scritto di non finire mai l'energia perché tipo se finisci l'energia tipo svieni e quindi ti devono portare in ospedale quindi ti rubano soldi praticamente cioè non è che ti rubano soldi ovviamente l'ospedale costa però insomma il senso è quello ecco ora che ho 63 pezzi di legno posso craftare una fornace che cazzo dico una cesta mettiamola qui e piazziamola la mettiamo la mettiamo vabbè la mettiamo qui ah che bello e la prima cosa che mi avete detto è di mettere da parte il sap hai detto raga tutte le cose che volete ma non vendete il sap ad esempio io carbone e ste robe qui le terrei anzi sapete che vi dico metterei un po' tutto magari vendiamo solamente le fibre perchè non è che mi interessino chissà cosa perfetto direi che è tardino andiamo a dormire oh abbiamo aumentato di livello nella nostra abilità di creare cioè di prendere legno quindi ora gli alberi alcune volte dropperanno anche dei semini quindi è interessante possiamo fare due ricette nuove dei semini selvaggi e uno snack di campo che non ho la più minima idea di cosa possa essere sinceramente però vabbè ho preso tre pezzi d'oro dalle fibre interessante ok siamo al quarto giorno dell'estate della primavera ok direi proviamo subito ad annaffiare ok il nostro campo è annaffiato abbiamo riempito il nostro ammiatissimo annaffiatoio direi che ora è veramente il momento di andare in città e vedere che semini posso comprare non dirmi che anche oggi sei chiuso che ti picchio allora oggi è il 4 e il 7 è il compleanno del sindaco magari bisognerà fargli un regalo sarebbe carino ogni mattina ci ha fatto benvenuto e tutto ah per le 9 di mattina ora sono le? che ore sono? sono le 7 e mezza qualche troia vabbè per passare un po' il tempo andiamo a pescare oh guarda c'è anche lui che sta qui e pesca insieme andiamoci a prendere il gabbiano ah no non ci arrivo che bello ho preso dell'alga marina grazie davvero grazie facciamo che gliela vendo anche subito eh e non se la compra neanche io che ce ne faccio di sta roba vabbè piazziamola posso piazzarla ah posso mangiarla magari mi fa male ah no mi ha dato più 13 di energia boh a quanto pare gli piace andare nella sushi e mangiare le alghe ma sono le 9 e 20 di mattina così in un battibaleno e quindi possiamo andare da PR a comprare i semini buongiorno ah c'è ancora qui lo zaino a 2000 gold si e poi ci arriviamo zio poi ci arriviamo allora io comprerei quello per i fagioli ok aspetta quanti devo prendere però so è più di uno secondo me prendiamoli tipo 4 4 di fagioli le patate li prendiamo 4 anche di patate qualcosa che costa poco jazz cazzo è lo jazz poca troia raga gli alberi di mele 4000 questi 6000 per fare i fruttiti ti costa davvero un boh un occhio della testa diciamo che per ora mi bastano queste cose che ho preso eh ora l'unica cosa che mi viene in mente è che qua dice che cresce su un trellis che sinceramente penso sia il bastone no? trellis c'è un bastoncino lì accanto quindi non vorrei sprecarli eeeh ad esempio se io vado nel crafting cosa mi dice? non c'è niente che si chiama un trellis vabbè scialla allora piantiamo prima quest'altri apriamo la vanga facciamo un un quattro un due per due e ci piantiamo dentro le patate proviamo a piantare uno di questi aaaah me lo mette da solo allora scialla piantamole tutte vai due tre quattro vai così annaffiamo anche e per quanto mi riguarda tutte le cose che sto raccogliendo posso mettere da parte tipo questa clay e direi anche che possiamo andare a dormire perchè se non sbaglio quest'oggi dovrei riuscire a prendere i primi frutti del raccolto e infatti guarda qui il mio parsnip grande così e da quello che so c'è anche ci sono alcuni parsnip mi avete detto anche che pianta è ma non me lo ricordo sinceramente ce ne sono alcuni c'è la possibilità che escano tipo più belli tipo dorà cioè nel senso o argento d'oro o bronzo insomma con una qualità migliore quindi costano di più quindi questi 16 amichetti no no non voglio mangiarli zio voglio venderli è vero che mi danno legge è vero che mi danno salute però a me non interessa vediamo cosa c'è nella nostra bellissima casella postale boh tipo qualcosa con del degli scavi è successo qualcosa con degli scavi vabbè scialla non mi interessa il bello è che guardate la mappa questa è la mia farm la più grande di tutti tra l'altro grande nonno che me l'ha fatta ereditare però allora qua c'è pierre general store e c'è anche il già già mart e mart tipo in in americano tra virgolette non so se può dire americano vuol dire eh ceto commerciale quindi sono molto curioso di andare lì però prima voglio comprare altro parsnip da piantare altri semini cosa che purtroppo non posso fare perchè è presto alla mattina dai un bel pesciolone dai un bel pesciolone vai è ancora l'alga ci hai scassato cazzo però eh vai è un pesce è un pesce guarda la barra quanto è piccola però oh oh sta sciallo sta sciallo vai preso subito senza sforzo uh nuovo record nove inchi di lunghezza nove pollici grande così questo me lo compri un po' e dai che ho bisogno di soldi 30 ma porca puttana com'è che costa tutto meno della sardina la sardina uh lui forse non l'ho mai conosciuto ciao amico si Vincent ok ho conosciuto Vincent allora prendiamo il ponticello e saliamo per andare verso il centro commerciale da quello che sembra essere un centro commerciale è questo join us thrive jaja jaja mart life's better with jaja fewer your life jaja cola non lo so proviamo ad entrare oh la madonna cos'è qua si compra da mangiare pane questo join us aspetta se io clicco qua venuto la jaja mart come stai andando oggi cioè come va t'apposto t'apposto lui è morris ok se avete non ho capito ah posso comprare la jaja cola ah costano di meno qua le cose ah non è vero qua costa di più vabbè però i partner seed tanto vale comprarli qua me li compro quanto sono 15 15 forca troia tanti soldi 15 eh vabbè facciamo sto investimento magari ci sono cose che non posso trovare da altre parti ehm non sembra capirai magari qui ci troverò un botto di robe carine vabbè però posso anche parlare con lei che dovrò conoscerla anche no non devo annaffiarla devo parlarci parliamo con lui come ti chiami? come ti chiami zio? ah è shane? ah forse è per quello che è sempre incazzato ok vediamo c'è qualche casa in cui devo ancora andare magari conosco altra gente quanto siamo? ah getting started l'ho fatto e mi ha dato 100 ori come ricompensa grande ora abbiamo due nuove missioni advancement farming level 1 e ehm crafta uno scarecrow uno spaventapasser ok e fai crescere degli animali costruisci una co-op ah per questo c'è un recinto interessante con lui ci ho già parlato provo ad entrare qui dentro c'è qualcuno? oh c'è la coppia di animali del villaggio lui è George eh molto irritabile e lei è Evelyn sempre gentile si fa chiamare nonna aspetta qua continua magari c'è qualcos'altro c'è qualcuno? no lei non l'ho mai conosciuta ciao bella bionda Ali mi sta ignorando è quella delle foto mi sta ignorando di nuovo ah puttanella e lei invece? vieni qua lei è Jody ok grande Jody piano piano lo stavo incontrando tutti perchè mi ignori? stronza allora ho camminato un bel po' oggi ma devo ancora lavorare quindi di piantare qui i nostri bellissimi e simpaticissimi cosi perchè è sporco questo? c'è fai misurre la lavanga ah no ok boh magari è tipo più oh oh perchè è diventato viola? magari è super particolare quello perchè tipo c'era dell'humus o qualcosa qualche cazzo del genere non lo so ah no era già annaffiato ok ma io chissà cosa pensavo perfetto ma dopo aver mangiato la nostra bellissima seaweed direi che possiamo andare a dormire perchè voglio vedere quanto ci producono quei turnip che ho accolto ok intanto farming livello 1 preso possiamo fare lo spaventapassidi e fertilizzante di base ok quindi mi sa che crescono più in fretta le cose o crescono meglio magari vediamo cosa abbiamo preso come soldi ohhhh 560 d'oro non male non male intanto ragazzi vi dico che per questo video è tutto vi ringrazio tantissimo per la visione vi saluto conoscere mi piace sul video iscrivetevi al canale se ancora non avete fatto vi iscrivetevi su twitter in instagram facebook ovunque voi vogliate io vi saluto ciao a tutti prodotti